Buongiorno a tutti, come sapete ormai i giornalisti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande all'ufficio stampa e due colleghi di Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno a porgerle a mister Fonseca. E' presente invece in sala l'inviato di Sky Paolo Assogna a cui lasciamo la parola. Fonseca, io volevo un attimo il punto della situazione da parte sua sulle condizioni di Dzeko, se ha una fisicità pronta per fare il titolare e poi l'emergenza a difesa, come stanno Smalling, Mancini e i Bagnets? Dzeko giocherà, sta pronto, Mancini e i Bagnets hanno allenato oggi, abbiamo una grande possibilità di avere il 2 nella partita di domani. E poi volevo fare insieme a lei una riflessione sul campionato, sono passate otto giornate, manca un padrone, lei ha spesso ricordato che Juventus e Inter sono partite con ambizioni diverse rispetto ad altre squadre ma io volevo chiedere, passando anche gli scontri diretti tipo domani Napoli-Roma, ovviamente chi vince se avrà la possibilità di diventare una reale alternativa Inter-Juventus, Roma-Napoli ma anche Milan-Lazio-Atalanta, ecco volevo capire se questo campionato senza padroni dà possibilità diverse anche ad altre squadre oltre Inter-Juventus secondo lei? Io penso che siamo all'inizio, dobbiamo aspettare più giornate per fare una valutazione ma io non ho dubbio che Juventus e Inter saranno fino alla fine del campionato a luttare per vincere questo campionato. dopo abbiamo oltre squadre, 6-7 squadre che sono in un momento forte, in un buon momento e che possono arrivare vicino a queste squadre ma penso che siamo all'inizio per fare una valutazione, dobbiamo aspettare più. La Gazzetta dello Sport richiede l'importanza di Pedro e Mkhitaryan, si vede più nel loro lavoro in campo o nella mentalità che hanno portato fuori? In due, mi sembrano due ragazzini che hanno iniziato adesso a giocare il calcio sempre con grande atteggiamento, sempre con grande motivazione, il due. Domanda del romanista, ora che la squadra si esprime su alti livelli forse può dircelo, nelle ultime conferenze stampa l'abbiamo vista sorridere molto poco, c'è qualcosa che l'ha particolarmente infastidita nelle ultime settimane? No, no, magari prima della partita io sono serio perché sono concentrato nella partita. Il Corriere dello Sport le chiede, si parla tanto di insostituibili nella rosa, Veretù è ormai uno di questi, sembra avere caratteristiche che nessun altro centrocampista ha ed è un'arma letale sui calci piazzati. Veretù è un giocatore molto importante per noi, è vero, con caratteristiche uniche, ma penso che abbiamo dimostrato che non abbiamo un giocatore in sostituibile. Abbiamo una squadra con un'identità che sta pronta per giocare con tutti i giocatori. Domanda del tempo. La Roma sta facendo benissimo contro squadre sulla carta inferiori. La squadra secondo lei è pronta per vincere e dominare le partite anche contro rivali di pari livello o superiore, come potrebbe essere il Napoli? Non abbiamo vinto, ma abbiamo giocato con Juve e Milan. Penso che tutti noi abbiamo visto e in qualche partita possiamo fare altri risultati, possiamo vincere. Noi vogliamo sempre essere forti e domani vogliamo essere la squadra che sta giocando bene, che sta giocando con coraggio. Domanda di Tele Radio Stereo. Pellegrini e Dzeko sono pronti per tornare dal primo minuto dopo il test effettuato in Europa League? Sì, sono pronti. Domanda di Rete Sport. 16 partite in Serie A senza perdere sul campo. L'ultima sconfitta è arrivata proprio contro il Napoli. Quattro mesi dopo quella gara la Roma è cambiata più tatticamente o più mentalmente? Abbiamo migliorato molte cose. La squadra sta ovviamente giocando con fiducia, con atteggiamento, ma quando si vince è normale che ha più fiducia, ma la squadra ha migliorato molto. Domanda di Centrosuono Sport contro il Parma, squadra brava negli ultimi 30 metri. Abbiamo apprezzato Cristante Villar insieme dare solidità alla costruzione bassa e liberare Veretout per attaccare la profondità. Le chiedo contro il Napoli che sa ribaltare immediatamente l'azione recuperando il pallone alto. Potremmo vedere una scelta simile? Sì, fa parte del modo di giocare di questa squadra. Abbiamo preparato strategicamente la partita, ma le intenzioni sono le stesse. Domanda di Roma TV. Mister, che partita si aspetta domani contro un avversario che in questo avvio di stagione ha avuto alti e bassi, ma che comunque rimane una rosa con grande qualità? Mi aspetta una partita difficile, ma Napoli è per me la squadra più forte di questo campionato. E anche io ho guardato tutte le partite di Napoli, anche quando hanno perso. Diverse partite non hanno meritato perché sono una squadra brava, una squadra coraggiosa e che gioca un buon calcio. Mi aspetta una partita difficile. E sin qui allora è la partita più difficile della stagione, chiediamo noi di Roma Radio. Sono tutte le partite difficili. Anche quando giochiamo contro l'ultimo è sempre difficile. Io aspetto sempre le partite difficili contro tutti gli avversari. Domani sarà una partita difficile, ma sicuro. Voglio solo ricordare che la società ha fatto un'iniziativa contro la violenza sulle donne. Dobbiamo partecipare, dobbiamo comprare, è importante. Anche perché abbiamo il calendario, le donne dei nostri giocatori sono tutte belle. Dobbiamo partecipare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.